Signor Presidente, onorevole senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, articoli aggiuntivi degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 del disegno di legge di 1941 Cornessi, recante modifica il sistema di elezione della Camera dei Diputati del Senato della Repubblica. Questo è incenziato nella promozione di denti da quello approvato dalla Camera dei Diputati. Questo volo di Bertelli? Bertelli? No, queste canzate, per favore, il Governo ha posto alla questione fiducia, è una facoltà per il Governo. La Presidenza prende atto, credo. Grazie. 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 Grazie.